Allora avete sentito il sindaco ha parlato che nessuno ha fatto ricorso, tutte queste cose, però io vi dico com'è formata la commissione. Dalla dottoressa Maria Cristina Cavallaro, professore di diritto amministrativo a Palermo. Dalla dottoressa Maria Cristina Longo, professore associato per il settore concorsuale all'Università di Catania. Poi abbiamo altre tre persone, la dottoressa Maria Rosaria Vitale, professore associato in teoria e storia del laboratorio di restauro, la dottoressa Valentina Noto, direttrice del Castello Ursino di Catania. Ora, Castello Ursino di Catania con la Civita, non lo so. E poi il dottor Franco Milella, esperto delle nuove forme di partenariato pubblico. Poi ci sarà probabilmente il dottore Pulisi, che avete visto, quindi questi sono i cinque componenti. Cosa devono fare i cinque componenti? Devono leggere le proposte, devono in qualche modo valutarle. Quello che ha detto il dottore Pulisi potrebbero anche prendere una cosa di uno e metterla in un'altra, una cosa un po' particolare. Insomma, l'Iter è partito, hanno nominato la Commissione. Per qualcuno, ma non sono io e lo dico, per qualcuno le scelte sono molto ad personam, con molti interessi. Ma questi non sono io, non è neanche Cesare, sono altri che dicono non è giusto, andremo a lamentarci in procura. Ma non sono io, ve lo sto dicendo. A questo punto io chiudo il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'attenzione. Vi lascio con Gianni Papa, che parla di pasta, perché a Terrasini è in corso, o meglio ci sarà, la manifestazione della pasta. Vi posso dire che se potessi ci andrei subito. Grazie per l'attenzione, ci vediamo con le prossime edizioni.